La personale venti del Mediterraneo del pittore Franco Azzinari, più di 70 opere in mostra tra la natura rigogliosa e i misteri del mito. Vediamo il servizio di Dino Gardi. Un mondo naturale animato e coloratissimo dalla fantasia dell'uomo. E' quello che propone Franco Azzinari nella personale venti del Mediterraneo, in corso nel Museo delle Arti e dei Mestieri della provincia di Cosenza. Paisaggi dei quali si colgono subito bellezza, forza e unicità, rappresentate con lirico realismo, ha detto Sergio Zavoli nella serata d'apertura, sottolineando come resti ancora irrisolta la contraddizione tra il culto del bello e l'intolleranza verso gli altri, che continua a scandire il percorso dell'umanità. Bisognerebbe essere continuamente assistiti da questo splendido dono che ci è stato dato, di capire la bellezza, di saperla interpretare, di saperla dedicare, di saperla anche ricevere. E non di meno ci comportiamo spesso come se fossimo nemici l'uno all'altro. E' una storia che insegue l'uomo da quando è sceso dall'albero. E non di meno dobbiamo consolarci del contrario, cioè delle grandi prove di solidarietà, di condivisione, di delicatezza, delle relazioni che l'uomo sta a intessere con l'uomo. A sospeso lo sciopero della fame Rossi Canale, la Presidente... Grazie. 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 Grazie.